Nella parte alta di Fontamara c'è la chiesa con il suo campanile. Chi lo guarda da lontano, Fontamara sembra un greggio di pecore scuro e il campanile un pastore. Le stesse interminabili liti che si tramandano in rancori e processi per sapere di chi è quel cespuglio di spine. Il cespuglio brucia, le liti continuano. In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Dopo c'è il principe Torlonia, padrone della terra. Dopo ci stanno le guardie del principe. Dopo ci stanno i cani delle guardie del principe. E dopo niente. Dopo ancora niente. Dopo ancora niente. E dopo ci stanno i cafoni e si può dire che è finito. Il saccio come se parla con le autorità. Io sono stata a Roma a ricevere la medaglia al valore per il marito morto. Si vuole far accompagnare da un'altra donna di cui preferisco non fare il nome. Ha il marito in America da dieci anni ed è incinta. E ci vuole fare credere a noi che il marito l'ha messa incinta dall'America. E si avvicina il vino e mi fa Matalè, Matalè, e non possiamo fare brutta figura. Matalè, vai tu. Don Circostanza è l'amico del popolo, è sempre stato benevolo con la gente di Fontamara. E' sempre stato il nostro protettore, la nostra difesa. E la nostra rovina. Finché un giorno, il generale Baldistere, gli è scarpa. E' arrivato in paese tutto in città. Il tempo dei morti vivi è tornato. Ma che dici? Da mezz'anno gli ho fissi. Hai visto chi? I morti. I morti. Le cinque lire! Torneranno le cinque lire! Ce l'avete la tessera? Che tessera? La tessera fascista. Senza tessera non si lavora. In cella l'avezzanese e Berardo parlano, parlano. Non smettono mai. A me sta storia del solito sconosciuto non mi piace. E' un cittadino o un caffone? Se è un cittadino io non gli credo. Perché i cittadini stanno bene che sfruttano i caffoni. Non tutti i cittadini sono uguali. Un'unione tra cittadini onesti e caffoni. E' possibile. Fidati. Quando li rivedrai, saluta gli amici. Tuo padre, il generale Baldissero. Venerdì santo, papasisto. Ma soprattutto Scarpone. A lui chiedi scusa da parte mia. Tanto si sapeva che sarei morto in carta. Il titolo è... Tanto... E' viva Berardo. Morto in carcere. Viola. Il primo caffone A non morire per sé. Ma per qualcun altro. Quando li rivedrai. Il primo caffone Saluta gli amici. Viva A non morire per sé. Quando li rivedrai. A non morire per sé. A non morire. No, 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 no. No, 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 no.